Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Paolo Crepè non trattiene le lacrime, visibilmente commosso, si è espresso su Tagadà riguardo alla morte di Giulia Cecchettin, sottolineando la persistenza della violenza sulle donne nel corso dei decenni. Mi colpisce il ricordo di 50 anni fa quando mia madre, senza dirmi nulla, ha messo in piedi a Padova un centro contro la violenza sulle donne. Dopo una pausa, con la voce spezzata aggiunge, forse non è cambiato niente. Crepè ha evidenziato la mancanza dell'abc dell'amore nella società odierna, definendoci analfabeti emotivi e sottolineando la paura di affrontare la domanda sulla felicità. Ha criticato il declino dell'empatia, attribuendolo al progresso tecnologico, alla televisione e ai social media. La sua critica si è estesa al modo in cui la tecnologia ha impattato anche su eventi di sensibilizzazione, come le fiaccolate, eravamo pieni di telefonini, cosa c'è da fotografare? Sottolineando la mancanza di empatia evidente persino in tali contesti.